Ciao a tutti ragazzi, sono Andrew Rozza e bentornati sul canale. Continuano i video a tema ovviamente album calciatori panini della collezione anastatica e oggi procediamo con questi tre, quindi dal 1974-75 fino al 1976-77. Ovviamente ne ho già altri, però i video come sapete sono tre per tre. Per cui ragazzi adesso sigla e poi vediamo questi album. Eccoci qua, abbiamo i tre album qui che potete vedere e ci vediamo subito il primo nel 1974-75. Comunque ragazzi solita collezione che andiamo a vedere. Allora, copertina con un pallone, azioni di gioco ovviamente della stagione con ovviamente gli stemmi delle squadre di serie A, cioè stemmi. Abbiamo questi quadrati con i nomi e i colori sociali delle squadre. Serie A, B, C e D e ovviamente regole del calcio. Andiamo a vedere come si presenta. Si ripresenta con le figure più snelle, con la figura intera. Quindi comunque come vedete ragazzi c'è sempre un po' un richiamo delle formazioni. Peraltro qua bellissimo la chicca delle regole di gioco, quindi da questo punto di vista non male. Come vedete i giocatori sono 4, 8, 12 più gli altri titolari classici e altri 6 figuri ovviamente di giocatori. più chiaramente dove c'è, qua però non presenta più già la pagina delle regole. Vedete ogni tanto qua tra le squadre inserisce quelle che sono le regole. Caglia rivedete, regola numero 4, regola numero 5, quindi una chicca nuova. Quindi a questo punto gli siete. Poi anche la Fiorentina con i pantaloncini. Qua la scelta di avere invece i pantaloncini neri nell'azione di gioco. Anche perché comunque da questo punto di vista le foto per gli album poi facevano anche in situazioni o ad allenamento di solito o comunque qualche azione di gioco. Vedete qua intanto ci sono tutte le varie regole. Qua addirittura belle queste figure particolari con le azioni di gioco magari del giocatore che è in movimento. Quindi anche un po' una caratteristica molto molto particolare. Qua abbiamo le regole con, cioè delle foto dove specificano le regole che abbiamo visto. Quindi bene qua ovviamente le regole del calcio più il classico elemento fumettistico se vogliamo, quelle caricature. Ancora altre foto, chiaramente sulle regole, quindi questo album era un po' incentrato su questo. Almeno nella parte di metà con, vedete, Roma. E le altre squadre che non la conclude. Samp, Blu Cerchiata e la Sa e la Ternana. Con la caratteristica maglia rosso-verde quindi molto molto particolare. Avanti con il Torino e con il Varese che chiaramente ha passato gli anni qua. Qua passiamo al campionato di Serie B che torna, anzi che torna, che si propone in questa veste con solamente 12 giocatori. Il Stemma in piccolo, quindi quasi tra i reti della Serie C, molto molto risparmiato da questo punto di vista. Quindi vedete anche come cambiavano le scelte editoriali e di impaginazione dal punto di vista grafico. Però quanto riguarda la Serie C c'erano solo gli Stemmi quindi non c'era almeno più la schierata. E qua poi il calendario, qua non inizia a tagliare un pochettino più le coppe e mettere solo degli elementi così. E quindi qua ragazzi chiudiamo con il primo album. Poi abbiamo ovviamente quello successivo che è l'album 75-76. Eccolo qua, si presenta in copertina con l'azione di Dino Zoff, dovrebbe essere. E che qua abbiamo queste bandiere delle squadre con lo Stemma anche perché è la geografia del calcio italiano. Questa è la tematica, vediamo che cosa succede qua. Andiamocelo a vedere. Le figui intanto tornano con il busto. Poi c'è bordo bianco, molto classico. Come al solito stavolta sono un po' meno perché sono 248 12 più 4 stavolta panchinali se vogliamo. Comunque altrimenti sono più compatte le pagine. Nulla a che vedere ovviamente con quelle moderne ma già un ricambio rispetto lì. Qua abbiamo il Como che peraltro quest'anno torna in Serie A. Fiorentina con questo viola un po' particolare. Vincitori anche della Coppa Italia nella società precedente. L'Inter. E tra l'altro caratteristico diventa anche la caricatura con lo Stemma con l'animale o comunque il simbolo della squadra. Vedete peraltro gli Stemmi qua che avevano questi toni un po' più scuri. Qua abbiamo il Milan e il Napoli ovviamente. Andiamo a vedere qua. Anche che è compatto quindi si disperde meno. Ci sono meno pagine di dispersione tra i verti. Tra l'altro non ci sono per ora la metà. Quindi stavolta proprio la Serie A l'hanno fatta molto molto compatta. Come vedete ed eccola qua la geografia del calcio italiano immaginavo fosse una roba del genere. Davvero molto bella con praticamente la zona Nord con tutti i simboli delle squadre che giocano. Pianamente. E vedete qua il centro. Qua il solito carciatori anastati. Quindi il solito fascico e qua il Sud Italia. Quindi anche piuttosto interessante era tra rivette da prendere e da costruirlo tutto. Andiamo a vedere la Serie B. La Serie B torna a prendere più spazio ovviamente. Ma perché se la Serie A è la più compatta, la B e la Natalì, una scelta di mettere al centro la schierata e di mettere attorno comunque i soliti 12 figu. Qua ci sono anche sotto i personaggi del campionato italiano. Quindi comunque anche in Serie B mantengono lo standard che hanno usato l'A con scudetto, con lo stemma e la caricatura simbolo animale della squadra. Vedete il Catania, il Catanzaro, Foggia, Genova. Quindi ce ne sono ovviamente tanti i canarini del Modena. Quindi da questo punto di vista il Vicenza retrocesso, Novara, Palermo. Ovviamente ci sarà anche il Varese per forza. Vedete comunque Pescara con Nelfino. La San Benedettese che se non ero qua era andata a salire. E qua vedete poi i mostri sacri addirittura con quelle che sono le loro caricature. Quindi volevo farvi vedere un po' anche queste caratteristiche. Serie C si ritornano ancora sul classico con gli stemmi, molto semplicemente. Serie D elenco con i gironi. E poi qua chiaramente ci sono i risultati delle coppe. Senza più i vari elementi, a parte gli assi del calcio europeo che qua vi do la carrellata dei vari giocatori. Quindi comunque particolarità. Andiamo a vederci l'ultimo. Intanto vi faccio vedere anche la quarta di copertina. 2500 euro. Andiamo a vederci l'ultimo album. Eccolo qua. 76-77. Quindi eccolo qui. Stavolta dirigenti e tecnici ex calciatori. Con ovviamente quelle che sono queste caratteristiche principali. Cioè di gioco. E ce lo andiamo a vedere. Qua stavolta come partiamo con una novità. Quindi c'è il cerchio con la testa. Più figurina dell'azione di gioco. Ovviamente il tutto era una figurina compatta. Quindi novità rispetto all'impaggiatura classica. Tutti e 12. Lì più i soliti 4 giocatori compatti. Perché due pagine per squadra. Vedete anche poi il dettaglio dello stemma. Più il simbolo qua ricoperti. Qua quindi anche a questo punto di vista una nuova veste grafica. Però più o meno resta costante la pagina di dati e carriere. Quindi vedete ragazzi comunque c'era. Qua abbiamo l'Inter. Qui le statistiche che tagliano in mezzo con tutte le schierate. Quindi addirittura ci sono le mega schierate delle squadre. Che più l'albodoro, marcatori come l'avevano detto in realtà. Probabilmente non hanno fatto la schierata delle squadre nella pagina. Quindi hanno deciso di fare delle splash page con tutte le schierate. Quindi qua c'è il Milan. Abbiamo altri dati e carriere. Quindi comunque è un album dedito questo più agli amanti delle statistiche. Samp. Vediamo ovviamente. Immagino che è finita la serie A. Includano le splash page finali che ci mancavano. Non strano che non le hanno messe però. Vediamo. Serie B che si presenta più alta. Quanto ci sono tutti gli altri tecnici e calciatori. Con giocatore tra l'altro qua. Date qui chi è. Per Cassi. Quindi dovreste riconoscerlo. Se seguite il capcio attualmente. Come retrocesso. Quindi qua poi si torna. A vedere anche delle figure più piccoline. Ecco le quali altre splash page. Una scelta un po' particolare. Nel tagliare la serie B. Però vedete che riparto entro dalla Lazio. Milan. Quelle che mancavano insomma. Con Perugia. Eccetera eccetera. Pensavo lo mettessero a fine serie A. Però va bene così. Andiamo avanti con la San Benedettese. A spalla. Ternana. Taranto. Quindi chiudiamo con il Varese. Non c'è la serie C. Perché è parte diretta. Con la serie D. O meglio. È strana. Questa impaginazione. Non valeva che fosse stato un errore. Ma non direi. Qua la serie C. Si torna con stemma. E la schierata. Perlomeno. Vedete. Scelte sempre ogni anno. Molto molto differenti. Da questo punto di vista. Quindi chiudiamo. Ovviamente con il solito. La quarta di copertina. Dove c'è qua. Bene ragazzi. Ovviamente. Per questo video è tutto. Ovviamente. Qua vi faccio di nuovo. La carrellata di tre album. Fatemi sapere anche voi. Cosa ne pensate. Se è una collezione che vi sta piacendo. Quindi ditemi anche la vostra. Sotto nei commenti. Noi ci vediamo. In un prossimo video. Ciao. Noi ci vediamo.